La frustrazione crea violenza. La violenza è sempre produzione di frustrazione. Sempre così. O no? Per forza. Quando non sai fare niente e giochi a pallone, l'unica speranza è spaccare le gambe al bravo centravanti. Fai parte della storia? No. Vieni cancellato dalla storia. Se non come quello che ha spaccato le gambe a quello bravo e non gli ha permesso di continuare ad essere bravo. Ma se tu sai fare giochi a pallone, non hai bisogno di spaccare le gambe a quell'altro. Sì o no? Giochi, vedi. A volte vinci, a volte no. Dipende dalla tua bravura. Quando non sai fare niente, iniziano delle cose che si chiamano invidia, arroganza, prepotenza. Tutto questo genera violenza. Ma se tu sai fare bene le tue cose, perché devi invidiare?